Variante della Tremezzina, la consegna dei lavori per la seconda fase degli interventi prevista per la fine del mese di luglio è slittata ma manca ancora una data. Un passaggio necessario per avviare, come detto, la seconda parte dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il progetto complessivo e noto prevede la realizzazione di un tracciato che si estende per quasi 10 km con l'obiettivo di ridurre i problemi di traffico sulla statale Regina. Attualmente gli interventi si concentrano nel comune di Colonna, nel portale sud della Galleria. Per quanto riguarda l'avvio del portale nord nel territorio di Cadenabbia, siamo in attesa dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte di ANAS, spiega Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente Lombardo dell'Associazione dei Comuni, che poi avverte che al momento non è prevista nessuna nuova chiusura totale al traffico della statale Regina. All'abbio dei lavori per la variante della Tremezzina, dallo scorso novembre e per quattro mesi, si era reso necessario lo stop alle auto sulla strada, creandolo in pochi disagi al territorio. Scondurata dunque una nuova chiusura totale della strada a Colonna, il sindaco Guerra conclude attendiamo l'approvazione definitiva del progetto esecutivo con la speranza che venga rispettato il cronoprogramma dei lavori. Quando infatti arriverà l'approvazione del progetto per la seconda fase, la consegna dei lavori partirà nei cinque anni e due mesi per il completamento dell'opera. L'obiettivo resta concludere gli interventi nel 2026, quando la Lombardia ospiterà le Olimpiadi Invernali.